Siamo con Patti Labate, Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Commissione Ambiente di Montecitorio. Presenta un ordine del giorno alla delega fiscale. Qual è il contenuto di questo ADG? Stiamo ribadendo come è necessario incentivare l'utilizzo dell'acquarefla in agricoltura. Visto quello che sta accadendo, la siccità, ma anche le alluvioni che sono facce della stessa medaglia e che quindi nel futuro ci sarà veramente una mancanza d'acqua, è necessario poter riutilizzare tutta l'acquarefla necessaria. L'acquarefla adesso è utilizzata solo al 9% in tutta Italia, ma con un sistema di depurazione e chiaramente anche evitando che ci siano problematiche sulla salute umana, questa è una grande risorsa, è l'economia circolare dell'acqua.